L'Atletica Leggera è un mondo fatto di record, oggi però parliamo di una prestazione che non è agonistica, bensì dirigenziale. Pinopadia infatti è alla guida della potistica ostia da ben 42 anni. Un record che possiamo definire da scrivania. Esatto, 42 anni, 42 anni. Ogni due anni facciamo il rinnovo e io sono sempre eletto presidente. La società va sempre più sistemando negli organi statutari della direttiva, però ogni due anni io rimango sempre presidente. Non lo so neanche io perché rimango. Allora, una società che è stata insignita di un prestigioso riconoscimento, così come la tua persona. Esatto, la società, una delle poche società diciamo direttantistiche che ha avuto l'onore di avere la stella e il bronzo al merito sportivo per quello che ha fatto, la società sportiva, perché abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto. E anche personalmente un altro riconoscimento. Personalmente io ho avuto anche la stella d'argento, perché mi interessa un pochettino oltre che della società, della corsa, diciamo anche per l'ambiente. C'è stato questo impegno, culminato poi nell'organizzazione della famosa Ostia in Corsa per l'Ambiente. Perché questa scelta? Perché? Perché noi diciamo siamo un po' i favotori, la nostra sede è la pinneta di Casterfusano. E noi abbiamo sempre lottato per questa pinneta, perché per noi deve, ancora non lo è, ma deve rimanere una palestra un po' per tutti. Quindi chiuderla al traffico delle macchine, abbiamo raccolto un 3.000 firme noi anni fa per cercare di chiuderle, non ci siamo riusciti. Allora per difendere l'ambiente abbiamo creato nella monistica Ostia, per 17 anni abbiamo fatto Ostia in corso per l'ambiente, una gara potistica di 10 km. A proposito di corsa, in questo momento per la pandemia le corse sono ferme da diversi mesi. Manca a te e a voi appassionati? Tantissimo, guarda, tantissimo. Le gare non se ne fanno, gare. Noi speriamo a settembre del 2021 se ci arriviamo, adesso noi facciamo altri che tutta la società si allenano solo, si allenano solo e non fanno altro. Un presidente da record, ma soprattutto una persona che incarna l'amore e la passione per l'atletica. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabin.